Un gruppo di tifosi del volley femminile bergamasco ha costituito qualche settimana fa l'associazione Passione Volley, associazione che è di carattere culturale, persegue un po' quella che è la figura femminile nell'ambito del volley. È un'associazione senza scopo di lucro e ha sostanzialmente il fine di raccogliere del denaro, delle somme ovviamente di denaro da poter devolvere quest'anno pressoché alla FOPA, la nostra squadra di Bergamo, derivazione dalla società Volley Bergamo e non si sa mai magari raccogliendo anche delle somme, chiamiamole belle somme, poter aiutare anche altre squadre femminili della bergamasca. È un'associazione come dicevo di tifosi primariamente, tant'è che nel direttivo fa parte anche un fotogruppo di una rappresentanza dei tifosi della curva della FOPA, la famosa nobiltà rosso-blu, e altre persone, professionisti, rappresentanti anche degli sponsor, il presidente Paolo Bolis e una rappresentante anche del circuito del mondo delle volley femminili che è Silvia Giovanardi, un'esperta soprattutto di volley femminile minorile, per cui ragazze, divaio, primavera e quant'altro, dove cerca di far crescere poi il campione di domani.